buongiorno ben ritrovati a tg news a condurre con me come al solito maria laura che saluto ciao mario è un saluto tutti voi che ci seguite sempre più numerosi diciamo subito il risultato del Cantù oggi il Cantù ha pareggiato 1 a 1 con il Trento gol di De Vecchi prima di vedere i gol e le immagini della partita vi mostriamo la schermata con risultati e la nuova classifica Oginatese Caratese 2 a 1 Voghera Castellana 3 a 3 Castelnuovo Sandrà in Subria 2 a 3 Legnago Mantova 0 a 0 Alzano Cene Solbiatese 1 a 1 Coloniese Steril Garda 0 a 2 Cantù Trento 1 a 1 Darfo Boario Villa Franca 2 a 1 Pontisola Virtus Verona 1 a 0 la classifica vede sempre il comando il Manto a un passo dalla promozione con 62 punti il Cantù si consolida centro classifica con 43 chiudono la classifica la Solbiatese il Trento a 25 punti Per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di serie D girone B si affrontano Cantù e Trento a dirigere l'incontro è stato chiamato il signor Mandina di Paermo al secondo minuto subito il Cantù con Pappalardo che colpisce la traversa al sedicesimo si fa vedere il Trento con Colella che in semi rovesciata impegna Artesani al ventesimo è il giovane Panzetto del Cantù che calcia dal limite il tiro va fuori di poco alla mezz'ora pericoloso il Trento con Stenas che viene anticipato all'ultimo momento da Artesani 32esimo missile del solito Pappalardo su punizione si salva Pea in angolo al quarantesimo ancora il Trento con il proprio centramanti che si gira bene in aria ma calcia fuori in chiusura di tempo Pappalardo entra in aria e impegna Pea che respinge termina qui il primo tempo con le immagini passiamo alla ripresa al dodicesimo Panzetto si invola in aria ma calcia debolmente diciassettesimo Pasticcio in difesa del Cantù non ne approfitta in Trento e Granata si salvano al ventisesimo Spaggiari fa tutto da solo ma calcia sul portiere alla mezz'ora difesa del Cantù ancora in affanno un'occasione d'ora per il Trento che non ne approfitta al trentaduesimo ancora il Trento vicino al gol Atomei colpisce il pavo al trentaquattresimo il Trento passa meritatamente in vantaggio con Atomei Cantù 0, Trento 1 al quarantaduesimo De Vecchi in mischia pareggia e salva il Cantù da una sconfitta Termina così 1-1 sentiamo le interviste nel dopo partita Mister brutta gara oggi Mamma mia si si ultimamente in casa non riusciamo proprio a esprimere ma neanche il trenta per cento del nostro valore dico meno male che domenica si è riuscita a fare un buonissimo risultato a Verona perché anche oggi sinceramente il pareggio è venuto anche in modo un po' fortuito perché il loro portiere ha perso la palla perché se no era una partita compromessa è un peccato perché veramente per quello che avevamo fatto fino a tre quarti di campionato a chiudere con queste prestazioni però i ragazzi ce la mettono tutto è proprio un momento così in allenamento ci siamo allenati bene questa settimana e si sente un po' troppo la partita forse hanno anche mollato mentalmente pensando di essere già arrivati lì Complimenti comunque perché avete conquistato anche per la prossima stagione la permanenza in Serie D Adesso non ho ancora visto gli altri risultati non dico mai niente io finché non c'è tutto scritto sulla classifica sembra di sì comunque adesso guardiamo gli altri risultati poi vediamo abbiamo da preparare altre tre partite da fare in un modo migliore di questo A proposito di prossima stagione tutti si chiedono cosa farà Chico Pelosi Beh io sicuramente non giocherò più ancora però no non lo so non lo so con Marco stiamo lavorando bene è una cosa che mi piace ti ho detto già mille volte che non è detto che uno che ha giocato sappia fare allenatore sto imparando molto da lui e Comunque tu hai dimostrato di saperlo fare Perché sono riuscito a guantare il pareggio ho perso dieci anni di vita guarda oggi Ciao niente Va bene Grazie Ciao ciao Siamo qui con il direttore sportivo del Trento le chiedo un'analisi della partita Ma diciamo che la partita non so se lei l'ha vista abbiamo fatto una buona partita Ambe due le squadre non ci sono state pochissime ammunizioni tranne che il mio giocatore che è stato espulso all'ultimo Sicuramente diciamo il Cantù ha giocato più tranquillo per la classifica che ha e noi naturalmente dovevamo vincere in tutte le maniere Ci abbiamo rovato abbiamo sbagliato l'impossibile siamo riusciti a fare golle e poi siamo riusciti a farcelo anche fare Non si smette a otto minuti alla fine non si smette di giocare A otto minuti alla fine noi abbiamo smesso di giocare abbiamo incominciato a perdere tempo sui calci d'ango su cose che non si fanno Una squadra che si deve salvare deve rimanere umile come è stata tutta la partita Lottare come ha lottato tutta la partita Io la prima volta che vado in panchina è la prima settimana che li ho allenati Mi hanno risposto per quello che concerne a me mi hanno risposto alla grande però non sono d'accordo sugli ultimi otto minuti Noi abbiamo sbagliato e sicuramente è la colpa anche mia e sicuramente per questo siamo ultimi in classifica Bene grazie allora io le faccio un grande in bocca al lupo Crepe il lupo grazie mille Grazie a te il gol del pareggio Sì grazie a me il gol del pareggio viene un punto molto prezioso in un momento difficile Un momento difficile di squadra dove oggi probabilmente non meritavamo il pareggio però l'abbiamo ottenuto Abbiamo preso il punto che ci serviva e un momento difficile a livello anche personale dove sono un po' di cose quindi sono contento Sappiamo già che circolano delle voci sulla prossima stagione ci puoi dare qualche anticipazione? No se voi avete delle voci sulla prossima stagione le vorrei sapere anch'io perché noi adesso siamo concentrati a finire in maniera migliore possibile Dopo penso adesso la salvezza possiamo dire che è acquisita e vediamo se riusciamo a ottenere qualcosa in più come sembrava un po' di mesi fa E poi per il prossimo anno c'è tempo per pensarci tranquillamente Bene grazie ciao Grazie a voi buona continuazione ciao Col direttore generale del canto San Paolo Mario Targhetti il punto sulla stagione? Beh direi un ottimo punto siamo arrivati a un piccolo passo dalla salvezza matematica quindi più che soddisfacente Abbiamo fatto un grandissimo girone d'andata il ritorno un po' di fatica però finalmente abbiamo questi 43 punti che con 8 punti di differenza sulle quintultime siamo tranquilli Adesso l'attenzione alla prossima stagione sono già circolate delle voci ci puoi confermare qualcosa oppure smentire? Ma bisogna capire quali sono le voci a cui ti riferisci io dico semplicemente che questa nuova dirigenza sta facendo bene per cercare di mettere a posto i conti economici di questa stagione E programmare per l'anno prossimo stanno cercando di coinvolgere più industriali possibili per poter magari ambire qualcosa di più di una semplice salvezza Quindi ci saranno ancora Marco Ronchetti, Claudio Pelosi, Mario Targhetti? Ma a questo momento posso dire di sì poi possono succedere tante cose che se non entrano nuovi personaggi allora dovremo ridurre ulteriormente il budget che come sappiamo è abbastanza limitato E quindi avere altri scopi che porterebbe a delle problematiche però in questo momento dico che noi siamo tutti confermati e vogliamo assolutamente rimanere a Cantù Bene, in bocca al lupo allora Grazie Ciao, grazie E con questa interessante dichiarazione di Mario Targhetti termina anche oggi TG News Il nostro prossimo appuntamento è domenica 1 maggio con Cantù al Sanocene Grazie per averci seguito e buona settimana a tutti Grazie a tutti